Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo vlogmas e benvenuti a questo reset day, che è una giornata in cui sbrigherò alcune faccende di casa, mi prenderò cura della mia persona e completerò tutte quelle attività che normalmente sono noiose, sparse per la settimana, poi là io cerco di raggrupparle tutte in un giorno in modo da non pensarci più. Per prima cosa mi sono messa una maschera nei capelli ed è per questo che sembrano così strani e la terrò mentre pulirò la casa perché nessuno mi vede, non ho bisogno di essere, a parte voi ma voi siete amici, non ho bisogno di essere troppo presentabile e potrò sbrigare le faccende di casa. Una cosa che faccio sempre quando pulisco, quando sbrigo le faccende di casa è ascoltare qualcosa, può essere un audiolibro, un podcast, a volte è semplicemente musica di Natale in questo periodo, ma tendenzialmente ascolto audiolibri e podcast. Questo è lo stato attuale della camera con un po' di regali di Natale ancora da impacchettare, computer e roba per fare editing lassù, il letto è più o meno fatto e varie altre cose in giro e poi anche di qua ci sono un sacco di altre cose da sistemare. Quindi iniziamo, la fortuna di avere un appartamento piccolo è che è abbastanza veloce da pulire. Grazie a tutti. Finalmente ho sistemato questo cassetto che si era riempito di roba, lo so non sembra super carino ma almeno è funzionale, ho tutte le cose che mi servono quando devo studiare oppure fare YouTube, un po' di cancelleria per lavorare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.